Appuntamento religioso e importante mercoledì prossimo a Polignano. Arriva infatti la reliquia che contiene il sangue del beato Papa Giovanni Paolo II. Un'ampolla custodita in un reliquario d'argento a forma di libro e che raffigura la Bibbia posta sul ferro di Papa Voitiva il giorno del suo funerale, opera di un maestro trevigiano. Il sangue del Papa Polacco fu prelevato dai medici il 2 aprile 2005, poco prima della sua morte. Ad oggi il sangue non si è coagulato e mostra il suo colore naturale. Un appuntamento con la fede importante dunque che vivrà un primo momento a Bari all'aeroporto che è proprio intitolato a Cara Loitiva. La reliquia giungerà lì alle 9.30 di mercoledì prossimo e sarà impartita la benedizione dell'aerostazione da parte di Monsignor Domenico Ciavarella, vicario generale dell'Arcidio Gesibari Bitonto. È annunciata la presenza anche del presidente della provincia Schittulli, del sindaco di Bari Emiliano e dell'amministratore di aeroporti di Puglia, Domenico Di Paola. Nel pomeriggio la reliquia giungerà a Polignano a bordo di un elicottero della Polizia di Stato. L'atterraggio è previsto intorno alle 17 nei pressi del campo sportivo. Lì, con una processione, prenderanno in via una serie di iniziative organizzate dalla parrocchia matrice che impegneranno la città fino al primo marzo. Oltre a funzioni religiose, sono previste anche le visite delle scolaresche. La chiesa matrice rimarrà aperta tutta la notte per permettere l'afflusso dei fedeli. La reliquia giunge in un momento delicato per la chiesa, viste le vicissitudini in Vaticano, ma l'arciprete Don Gaetano Luca si sofferma soprattutto sul tempo di Quaresima in preparazione della Pasqua e invita i fedeli a pregare per questo.